Il pastore svizzero Pochi sanno che il pastore svizzero altro non è che l'antenato del più celebre pastore tedesco. I primi cani allevati dal capitano Max von Stefanitz, uno dei primi selezionatori del pastore tedesco, avevano infatti il manto bianco. Il pelo può essere di lunghezza corta, media o lunga, come nel caso della nostra lettra. Il peso nei maschi va dai 30 ai 40 kg, nelle femmine dai 25 ai 35 kg. L'altezza algarese è di 60-66 cm nei maschi, 55-61 cm nelle femmine. Il pastore svizzero ha un carattere molto docile ed affettuoso con i membri della propria famiglia. È attento e diffidente invece nei confronti degli estranei. Essendo un cane da pastore non ama la vita sedentaria, ama molto correre e fare lunghe passeggiate con il proprio padrone. Nonostante questo è un animale estremamente ubbidiente, che sa adattarsi ad ogni tipo di ambiente. Soffre però gli ambienti troppo caldi, mentre ama i climi freddi. Molto spesso, infatti, la perdita eccessiva di pelo è dovuta a una temperatura elevata dell'ambiente in cui vive. Basta spazzolarlo tutti i giorni. È consigliato per le persone e le famiglie che amano le escursioni nella natura e le passeggiate, anche se risiede in un ambiente cittadino. È invece sconsigliato a chi predilige la vita sedentaria o viaggia molto per lavoro. Infatti, il pastore svizzero si affeziona molto alla propria famiglia e soffre di solitudine. Il suo grado di difficoltà ed educazione è 6 su 10. Grazie a tutti.